Disegnare il futuro si può, osservando però il proprio passato e anche il proprio presente. Mi presento, mi chiamo Paola Biavaschi e lavoro come docente presso il Dipartimento di ISWIT. Insegno fondamenti del diritto e diritto dell'informazione al corso di laurea di Scienze della Comunicazione. Dal punto di vista della mia ricerca mi occupo in particolare strettamente dei diritti dell'antichità, ma la riflessione sul mondo del passato e quindi su come l'uomo ha regolato la propria società tramite leggi e norme mi ha condotto a riflettere anche sul presente e sul futuro. Da questo punto di vista, da qualche anno, sto portando avanti incontri di studio, conveni e corsi di alta formazione rivolti sia agli studenti dell'Università degli Studi dell'Insubria, sia a persone che giungono dal nostro territorio e che vedono come protagonisti anche enti, associazioni e istituzioni della nostra area. In sinergia, quindi, abbiamo portato avanti un lavoro di carattere interdisciplinare che riguarda il mondo del lavoro, il mondo dell'informazione e il mondo dell'educazione. Questa formula sembra avere molto successo, abbiamo incontrato quello che è il favore sia degli studenti sia del nostro territorio e quindi ritengo che stiamo facendo un piccolo passo, ma importante, per disegnare il nostro futuro. L'Università è il luogo in cui si para guardare oltre sull'orizzonte. L'Università è la casa dei disegnatori di futuro. I progetti che vi abbiamo presentato e che continueremo a presentarvi nelle prossime settimane sono porte che si aprono sul vostro e sul nostro domani. Anche voi potete essere parte di questi progetti e delle nostre ricerche. Anche voi potete aiutarci a disegnare il futuro. Noi contiamo su di voi.